Ho voluto incontrare i sindaci dei comuni i cui territori sono stati devastati dagli incendi. Qui siamo sulle Madonie, assieme ai Nebrodi, fra le zone maggiormente colpite. Abbiamo assicurato l'intervento del Governo regionale con provvedimenti di sostegno, provvedimenti di ristoro. Abbiamo già dichiarato lo stato di emergenza, domani deliberiamo per lo stato di emergenza nazionale. Speriamo che da Roma arrivino segnali positivi. Noi intanto stiamo approntando le risorse attraverso il nostro bilancio per poter far fronte alle prime spese necessarie affinché i nostri agricoltori possano riprendere pienamente la propria attività.